Martina Bellini, questa gara di Coppa Italia a Schilpario, quindi vicinissimo a casa, un bel terzo posto nella 10 km scatting, che poi è la prima posizione nelle under23. Sì, è stata una bella gara, ho trovato finalmente un po' di sensazioni positive, quest'anno è una stagione alti e bassi, ormai sono abituata a fare gare in casa, quest'anno non ne ho mai fatte così tante come quest'anno, quindi dai, è sempre bello e se poi va anche un po' meglio del solito, ancora di più. Un bel complimento che hai fatto a coloro che organizzano le gare qui, a Clusone, a Schilpario, a Gromo, una stagione che in Bergamasca è andata bene nonostante tutto. Sì, esatto, siamo conosciuti in tutta Italia per essere sgobboni, per fare sempre le cose bene, essere dei grandi lavoratori e ogni volta le organizzazioni delle varie gare lo dimostrano e penso che anche la federazione ne sia consapevole, so che vanno sempre a complimentarsi, quindi sono una spanna sopra i Bergamaschi. Cominiamo a te, hai detto una stagione di alti e bassi, sì, alti e bassi, ma si tiene duro, si lavora e si pensa già all'anno prossimo. Sì, esatto, io l'ho detto finché ci sono gare, finché ho la possibilità io ci provo per farla andare meglio, poi siamo umani, non siamo macchine e quindi succede anche che non vada sempre bene, bisogna tenere duro e sì, sperare che vada sempre meglio. E invece 100 milioni di dollari, l'università come va? Eh, va, no, diciamo che va un po' a periodi anche quella, perché quando sei un po' giù di morale, ti abbatti, entri in un vortice che ti tira un po' giù e di conseguenza tutto quello che fai gli va dietro, però quando poi capisci che datti una sveglia poi tutto riparte, quindi adesso sono sulla strada. Ottimo, grazie a voi, grazie. 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 Grazie.